Musica Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo Scusate per il mio tono di voce ma praticamente mi sono svegliato così E in più mi sono arrivati due pacchi e devo per forza unboxarli in questa voce con un nuovo tono di voce chiamiamolo In più nella completà più sfiga Comunque, quest'oggi andremo ad unboxare Blade Credo che sia una lama Non so cosa si intende, non so come ha fatto ad arrivare Io credo che intenda le lame del drone, quindi le ali e non le lame Peccato che c'è scritto 1x, quindi praticamente c'è solo dentro un'ala Cioè noi abbiamo ordinato 4 ali e te ne danno solo una Però adesso andremo a unboxarle Le abbiamo comprate 3 mesi fa Ci sono arrivate oggi con un pacco, un sacchetto dell'immondizia, come vedete Da China Post Ci ha messo intorno ai 2-3 mesi, quindi devo dire che è stata veramente molto lenta Non stiamo qui ad aspettare, andiamo ad unboxare Allora, il pacco è sigillato bene, devo dire fatto veramente molto molto bene Ah no, ecco infatti ci sono 4 ali Queste sono le 4 ali per il drone Simma X5C Quello piccolo, praticamente abbiamo unboxato a tempo fa E sono 2 ali per il davanti e 2 ali per il di dietro Queste servono per maggior spinta, chiamiamolo così Per farlo volare ancora più in alto Quanto ho capito, sono dei nuovi tipi di ali Che andranno a sostituirsi ovviamente al drone di adesso Cioè praticamente alle ali del drone di adesso Che mi si erano pure rotte Quindi tra parentesi, per pura fortuna mi sono arrivate queste Il costo di queste ali è di 1,38€ Quindi veramente molto basso L'unico problema è la spedizione Comunque per il resto da Computer Museo è tutto Grazie ancora e scusate ancora per questa bruttissima voce